Ragazzule, è in corso un giveaway da 30.000 crediti, aperto a tutte le piattaforme, aperto a tutti, cliccate nel link in descrizione, partecipate, buona fortuna, estrazione domenica sera in live su Twitch, che trovate in quello in descrizione, dopo il torneo delle 23. Votete il video e forza a benevento. Oh, Atomic, che contenuto! Siamo contro Ovampiers, che se lo sbaglio, anche lui ha fatto qualche regional dell'RCS e arabo sicuramente, contro Zamue, grande l'elite dell'RCS in squadra, quello dei G2, Atomic, campione del regionale dell'RCS, G2 merda e... Dai, vabbè, vuoi mettere uno dei G2 con il King? Immagina andarsene per il campo a spasso e non tornare, vediamo, si è andato a spasso, lui sta giocando in 6 contro 6 oggi, non c'è problema con voi ragazzi, tranquilli, si vince, si vince, nonostante Atomic sta giocando a Prato Fiorito, vinciamo lo stesso. Il Cofino, alla mia destra, vai Atomic, bello questo Tocco, attenzione, vai Prato Fiorito, brutto Tocco, non meno, da basta, quanto c'è il Siporco 2? Ma perché i Kung Ball ci sono così tanto, che fastidio, tipo hai Zamuele, sempre, ormai, o Vampires facciamoci questa finta, ok benissimo, vai mate, va, cazzo c'è la retromarcia? E va, ti banno pure il portiere, vai, vediamo il rigioco di Atomic, che però è stato anche in viaggio, quindi saranno di meno, 88 ore in due settimane, dai, ci sta, ci sta, la metà di quello che fa di solito, sicuramente. Allora, seguiamo al kickoff, portiamoci a casa questo super contenuto, carriando Atomic, ve lo dico io, se non c'è Isa lo carriamo, no dai, come è fatta a non scoppiare? Zamue, vieni qua, Zamue, alza sta palla, domani, eh non posso andarci di nuovo, andiamo dietro. Allora, 100 di boost, attenzione al signor Atomic, attenzione! Atomic, sei lo schifo proprio, mamma mia, vai Atomic, sei fortissimo, bel 50 devo dire, ma un 50 davvero orgoglioso di te. Oh, che cazzo fa, eh? Oh, vampier, sei impazzito. Allora, mettiamo un attimo il mio mate. Bampato uno. Vabbè, dovrebbe essere facile per il boss, ragazzoli. Il boss di Benento difende facile, vai, Atomic dal muro. Bravo. Allora. Ah, no, ce l'ho easy. BAM! Allora. Io purtroppo non ho boost. Godo. Andiamo a prendere boost a 100. Facile, facile, facile. No. No. Non mi lasciare da solo di nuovo, ti prego. Mamma che parata! Mamma che parata! Oh, vampier! SPA! Attenzione, 2-1 per noi? No, peccato, il pre-flipper era una bella idea, però era molto complicato. Quindi, bravo lo stesso, vai, Atomic, tanto ormai lo so che c'è easy. E lascio, lascio, lascio. Ma si strunza, allora. La anticipo io, Zamora, non può fare niente contro il King. Palla e mezzo per Atomic! Zamora, dove vai? Ti faccio un bel ceiling, vieni, vieni. Oh! I contrasti vincenti, proprio. No! Raga, 44 di boost è finita. Vieni, vampiers, ti faccio vedere come si fa un bel 1-1. Eee! Come non hai pushato! Ma come non hai pushato? Pensavo pushato, mi avevo fatto pure un flick orribile. Che palle! 100 di boost! Guarda come si fa! 1! E' goal! E' goal! E' goal! Rip, già ero partito. Tensione! 100 di boost! Vieni, vampiers, vieni, vieni. Dove vuoi andare? Non ha capito niente, non ha capito. Vai, vai, signor Atomic, non ti far bampare, bravo. Bravo, sta minchia questa qua, palla cattiva, finta. E! Wow! L'ho più boost, ho vinto pure il 50, dai, eh! Zamora, che vuoi bampare tu? Bam! Bam! Vai, dai, Zamora, passami questa palla! Ti faccio vedere come si parte in contropiede, guarda. 1! 2! Eh, vabbè, 1 l'ho saltato, secondo no, mannaggia. Vai, mate! Attenzio, attenzio, attenzio! Beccati questo double touch davvero king. Eh, no! Me l'ha levato, questo era un gol incredibile. Atomic, guarda come si gioca. Bam! Palla in mezzo. Con l'altro cosa ha fatto? Eeeh, la buona vampir, ragazzi, è veramente un animale. Samue, vai a dormire. Comunque, raga, è incredibile come... Con il king non si passa. Cioè, non so se ti starà accorgendo, ma non si passa proprio. Atomic, cosa combini? Bravo Atomic, complimenti. Per questa cacata. Faccio vedere come si scarta il primo uomo. Boom! Fifth è distrutta! Boom! Anche lui, boom! Niente. Forneva essere normale. Ce la stiamo uscillando. Lezza, muoi, fatti sto reset. Dove vai? No, liscio. Liscio, dance. Olè. Mi dispiace. Bon, il king non si passa. Cheat, pensavo fosse in porto, onestamente, all'inizio. In realtà ho saltato appena ho visto il reset, sono stato proprio stupido. Peccato. Hai bisogno di boost? Mi sa, devo passare a destra. Ci provo. Bene questo passaggio. Me la passi? Non ho boost. E gole, 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 gole. Bravo Atomic. Però nel dubbio segnaliamo. Ho Vampires per tutto perché sta nel tank clan king. E non va bene. Raga, finta. Eh. Grande Atomic. No, pensavo ci stessi occhi alla botta. Ma che cazzo è sta roba? Vabbè, dai. Ma abbiamo lo stesso. Guarda come si fa. Guarda come si fa. Uno. Poi fai... Eh, 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 eh. No, raga. Qua occhio Atomic. Madò, sei un pazzo Atomic. Ho vampato uno. Meno male. L'ho vampato, ma io... Ok. Il boost a 100 ce l'ho. Siamo pronti a battere qualsiasi virgiliano. No. Penso a Zamue. Eh, 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 eh. Vieni qua, vieni. Andiamo dietro con molta, molta calma. Grande Atomic the king. No, dai, no, no, Atomic. Qua ci vorrebbe... Bel passaggio, bel passaggio, bel passaggio. Però vabbè, non fa niente, dai. Può capitare anche ai campioni RLCS di sbagliare. Vogliamo bene lo stesso. GG. Un bacione. Queste partite, guardatele in diretta. Perché guardarle solo su YouTube, guardarle in diretta. Tutti i giorni, live su Twitch, nel link in descrizione. Vi aspetto. Un bacione. Aspetta! Ti ringrazio dopo per l'abbonamento. Abbiamo contro Arsenal. The SSG. Sarebbe stop. Sex. G. Non lo so. Ancora devo studiarla, questa cosa. Però, ragazzuoli. Il signor Arsenal. Pronto a perdere contro il vero king di questa lobby. Palla e mezzo. Vai, James. Favete un po' quando... Oddio, no. Spè, James. Mi ricordo che era un segone allucinante. Però anche Lethal è scarso, quindi bene, bene. Stop Sex Gladiator. Ce l'ha con me sicuramente l'Arsenal. È vero, è vero. 1-0. Lethal scrive un errore mio. Ovviamente il signor Arsenal non si deve permettere di scrivere nessun problema. Come puoi scrivere nessun problema uno che sta chiedendo scusa? Cioè, non si fa. Fake. Oh! Oh! Distrutto! Vabbè, raga, ammetto, mi sto lavando poco anch'io in questo periodo. Però, purtroppo, ne ho bisogno. Ho bisogno di non lavarmi. Passaggio a James, che mi ha chiamato la parola al busto. Daglie. Vai, James. Masty. Fake. Nel dubbio. Comunque sta sempre bene. Ma cosa ha fatto, James? Si è impazzito. Ma che gol è? Ma James è un fenomeno, altro che... Ma... Vabbè, qua Lethal lo spacchiamo. Oh, no. Finisce male. 100 di busta. Lethal, passa dal tuo compagno, dai. Cazzo fa Arsenal. Arsenal, Bolchesserino. Ehi! Haha. Dai, però, questi mo' quittano. È durata un attimo sta partita, ma che palle. In America sono altri perché non ci stanno gli arabi, veramente. In Nord America stanno tutti altri MMR senza senso. C'è, boh. Pinch. Bello, proprio. Un pinch davvero insidioso. Lethal, mi fai un favore? Potresti passare, mi palla? Oh. Questo è un favore. Questo... Questo è gol, è colpa mia. Colpa mia, colpa mia, mi dispiace. Ben fatto. Allora, adesso puoi vedere l'occhio alla botta del King, dai. Lethal, schippa, dai. Ti segnalo se non schippi. Oh! Va bene, ok. Occhio alla botta. Mo' ti faccio dire io. Ti faccio dire io. Si è ragazzato per il gol, Lethal. Voglio bumparlo. James, che è successo? Oh, l'ho chiamato l'occhio alla botta, eh. L'ho chiamato anche molto in anticipo. Ghoul? Bellissimo quest'occhio alla botta. Ma mica devi avanzare all'occhio alla botta. Devi rimanere dietro. Cazzo, forse l'ha visto tardi. Boh, vabbè. Non fa niente, James. Tranquillo, ti vogliamo bene lo stesso. Si fa così. Un tocco. Ehi! Lethal! Lethal! Vai, James. Herdry bollino con il reset finale. Fammi vedere un po'. Che è sto schifo? Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Non sono bumpato da un certo James. Ui, è saltato Arsenal. Lethal invece mi ha fiftato bene. Attenzione a James. Bravo. Lethal anticipa ma non può fare... Che cazzo? Vabbè, dai, uno viene con Arsenal. Vuole essere fecato. Madonna. Bumpato Guodo. Scappa, scappa, scappa. Vieni qua, Arsenal. Passami sta palla, grazie. Ah, ah, ah. Allora, Arsenal. Anche se il mio comando mi ha lasciato uno vivo, tu non segni lo stesso. Ma invece sì che segni uno vivo, lo segna, eh. Insomma. Bel fake qua, i miei complimenti. Però non dubbio, segnaliamo James per riuscire a lasciarlo da sole e per aver fatto prima il fake bump male. Perfetto così. 4 a 3. Lethal non schippa i replay, vuole essere blastato. Ma ci penso io. Ci facciamo un kick-off. Alla mia. E... Vai, metto uno vino con Arsenal. Niente ragazzi, Arsenal purtroppo... Boh. Peggio di mezza Nauris e Zamuè in pensione proprio. 5 a 3. Ops! Questo triplo spam. Grazie. Ma... Sta partendo un piccolo flame. Ops, ops, ops. Grazie. Quando prendono gol. E che succede qua? Attenzione. Comunque io quanto godo per i flame unico al mondo. Vai, James. Bravo. Attenzione, attenzione. Ti pensa il mio compagno facile, giusto? Ehi! Raga, sei a 3? No. È tornato Arsenal. No. Ti prego, non lasciarmi il 9-1. Bravo. Ragazzi, fa così. Guarda. Lethal 2. Lethal ancora. Grazie per il bump. È stato comunque molto utile. Arsenal, cosa fai? Arsenal. Arsenal. Cosa combini? Bumpiamo Arsenal. Olè. 100 di boost. Occhio, occhio, James. Vabbè, dai. Devo chiuderla io, ho capito. Lethal, passami sta palla. Oddio, pensavo volesse bumparmi quel pazzo. Ma... Guarda come si fa. Pinta! 1, 2, e... Che bel flick inutile. Bumpato 1. Pause battle, l'ho lasciata da solo. Volevo che flick con la Fennec. Però l'ha tirato fuori, Godo. E... Va così, ragazzi. Lethal via, Godo. Io il 100 di boost ce l'ho. Bisogna aspettare il signor SSG. Non me la passi? Non ho capito, James, che intenzioni tu abbia. Però posso... Ma non ce l'ho segnalato Arsenal. Vabbè, dai. Quasi. Ah! Non ho boost! Dai, finiamo lo stesso con trattare boost. Nessun problema. Attenzione. Bravo! Stai a 3. Adesso abbandonate, dai. Palese. Io spammerei qualche ups, però, se fossi Nazionale. Lethal che non schippa. Vorrei sapere che si stanno scrivendo in privato. Perché secondo me in privato scrivono qualcosa. Non schippano entrambi. Staranno scrivendo qualcosa, spero. Boh. Occhio alla botta. Li faccio vedere come si fa. L'occhio alla botta si fa così. Guarda. Ecco. Grazie per non averlo fatto. Lethal è andata a FK? È stato offeso? Uh. G-H-H-G-R. Cosa vuol dire? Non lo sappiamo. So solo che adesso staranno piangendo entrambi. Ma che vuol dire? G-H-H-G-R. Vabbè. GG lo stesso. Bella partita. Un po'... Boh. Un po' una partita stupida, secondo me, questa. Però... Cosa dobbiamo fare? Arsenal. Nonostante stia facendo l'RLCS, nonostante il viaggio, comunque, è 75 due settimane. Ma... Vabbè. GG's, ragazzi. Come sempre. Un grande bacio e forza a benevento. Dagli. Ah, ok. Non so se riesco a segna questa, se no me l'ha chiusa. Eh sì, me l'ha chiusa, rip. Peccato. È stata anche una bellissima partita. Vabbè. Non ha senso. Ah. Va bene, va bene. Non fa niente. Va bene lo stesso. Ah. Sei a 5. Unlucky. Vediamo un po' se posso fare un bel chicco fino. Godo.